... Dagli anni 60 ai giorni d'oggi, un revival tra canti, balli e racconti, molto più che un saggio di fine anno, ma un vero e proprio spettacolo, quello messo in scena dagli alunni dell'Istituto Kindergarten di Giuliano. È bellissimo far riconoscere un bambino dalle proprie origini. E loro hanno in realtà nonni degli anni 60 e 70, papà e mamma degli anni 80 e 90, che poi si sono innamorati e sposati nel 2000. Una rivisitazione dei must dall'abbigliamento, alle musiche, al modo di pensare. La scuola Fiore all'occhiello del territorio si impegna sin da sempre a formare le generazioni future attraverso numerose attività che impegnano gli studenti durante tutto l'anno, dalle lingue alla tecnologia, dall'arte alla musica, spronando i ragazzi al raggiungimento degli obiettivi. Hanno dovuto conoscere testi musicali, balli che non appartengono al loro tempo. Inizialmente erano un po' lontani da questa realtà, poi piano piano ci si sono calati perfettamente. Grazie.